L'autopsia fatta al piccolo Gioele rivela che gli è stato fatale il colpo alla cassa toracica che gli ha causato una lesione al cuore. Vediamo il servizio di Valeria Ganadu. Verranno celebrati questo pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di Sant'Ignazzo da Lacuni a Ulvia i funerali del piccolo Gioele, il bimbo morto sabato pomeriggio mentre giocava nel campo da calcetto di Uzzieri con gli amichetti schiacciato da una porta da gioco che gli è caduta addosso. Ieri l'esame autoptico eseguito a Sassari ha rivelato che al piccolo è stata fatale una lesione cardiaca causata dall'enorme peso caduto gli addosso. Intanto proseguono le indagini su quanto accaduto in un pomeriggio di fine estate quando il piccolo che si trovava nel paese dei nonni materni ha trovato la morte mentre spensierato giocava con il suo amato Aquilone. La procura di Sassari attende le relazioni di carabinieri di Uzzieri e dello Spresal ma sembra che al momento non ci siano indagati. Restano comunque tanti dubbi da chiarire e sui quali faranno luce gli inquirenti attribuendo eventuali responsabilità. Stamattina ad Olbia si terrà una veglia di preghiera nella stessa chiesa dove stasera arriverà il feretro del piccolo Gioele proveniente da Sassari. Le polemiche nate all'indomani della tragedia a causa dell'esbizione del rapper Fedez ospite in occasione della festa patronale che si celebrava a Uzzieri si sono placate. Oggi c'è spazio solo per il silenzio e per il dolore e la Sardegna intera abbraccia la famiglia del piccolo Gioele.